Au, venite, presto, sta per nascere! Sì, un minuto e siamo lì! Mami, sei contenta? Io l'ho capito quando ho visto il tuo pancino e il tuo viso così dolce. Dobbiamo scegliere il nome, sarà maschio o sarà femmina? Mami, Mami, sarà rosa o celeste, sarà piotto oppure picciolino. Mami, la prima bambola che ha dentro il pancino una creaturina da amare. Mami, l'unica bambola che sarà mamma. La tua mamma avrà un maschio o una femmina? Mami, la tua mamma avrà un maschio o una femmina?